Ciao a tutti, siamo il liceo scientifico Cavalieri, siamo stati invitati per relazionarci con i ragazzi sul tema del bullismo. Per voi genitori, fate vedere questo video ai vostri ragazzi. Ragazzi, ricordatevi una cosa, che i vostri migliori amici sono sempre e solo i vostri genitori. Non dimenticate mai di condividere le gioie e soprattutto di confidare i vostri dolori. Ciao a tutti!